Poi accarezzare la greniera, il ponte sinistra, il destra e il volante, il suo passo è l'aiuto. Spazzolare il ginocchio e tre posti, mezzo passo in più, da qui passi indietro e spingi. Poi afferrare la coda del basso. Poi formare la frusta. Mere le dita e l'albertura della frusta. Ancora frusta. Spazzolare il ginocchio. Spazzolare il ginocchio. Spazzolare il ginocchio. Cavolo i colpi con i porti. Vesceca. Vai salire. G turno. Servente. Ragazza di Giade, destra, prendere l'asso, aprire il vento, ruotare, ognuno riuscirà, un po' dritto, dividere il vento, ruotare, ognuno riuscirà, un po' dritto, dividere il vento, ruotare, ognuno riuscirà,